Simona Anedda, viaggiatrice senza barriere, gira il mondo su una sedia a rotelle. Ilaria Imbriani, amante della musica, ha fondato il gruppo Trio Chaos ed è stata finalista ad Aria Sanremo 2019. Chris Wright, fino allo scorso anno titolare della squadra di basket di Trieste, è il primo giocatore affetto da sclerosi multipla ad aver segnato canestro nella NBA. Quando gli è stata diagnosticata la malattia, per i medici con la palla canestro aveva chiuso. Lui invece non ci ha pensato neanche lontanamente di terminare la sua carriera e tra le tante difficoltà e successi ottenuti continua a giocare e a vincere. Poi c'è lei, Michela Pascucci, 41 anni di Fano, un artista con la passione per la fotografia sin dall'adolescenza. Quando nel 2012 l'è stata diagnosticata la sclerosi multipla, ha cominciato un viaggio alla ricerca dei perché. Da qui è nato il desiderio di documentare il suo nuovo modo di vedere la vita e quella delle persone che non si sono abbattute alla malattia. È così che ha deciso di seguire i suoi nuovi amici nei momenti di vita quotidiana e con loro ha scoperto che tutto è possibile, tutto può essere affrontato con coraggio e senza paura. La malattia mi ha portato un'opportunità, cioè la capacità di vedere la vita in maniera diversa o comunque di affrontarla in maniera diversa, innanzitutto mi ha donato un profondo ascolto di me stessa, dei miei desideri, di come volevo approcciare la vita. In questi giorni Michela ha esposto alla rocca malattistiana alcuni scatti che vedono protagoniste le persone che come lei hanno la sclerosi multipla. Sono appunto persone che, come vediamo dal titolo, hanno un'amica in comune, così l'ho voluta chiamare, per sottolineare come si ci lega la sclerosi multipla come malattia, ci tengo a sottolineare io ho una forma molto leggera, ci sono anche persone che invece sono molto debilitate che hanno una malattia molto più forte e molto più debilitante appunto. Però quello che ho visto in molte persone è la capacità di reagire comunque a questa diagnosi, a questa malattia molto grave in alcuni casi e continuare la propria vita, ma anzi a volte guadagnare qualcosa da questa malattia. Mantenendo saldo l'impiego dell'obiettivo 35 mm e del bianco-nero, nelle foto emergono diversi elementi, i corpi tagliati brutalmente e lo scorrere della vita che si mostra consapevole nel suo essere qui ed ora, e poi gli oggetti quinta come strutture o inferiate, dietro i quali Michela si nasconde per realizzare i suoi scatti. I soggetti non sono mai in posa. In questa foto emerge più che il discorso della malattia, dei ferri della malattia che sono appunto questa carrozzina, il suo sorriso, la luce e la voglia di vivere, la gioia di vivere che è ciò che emerge in tutti questi scatti, in tutte queste persone che ha fotografato. Tra l'altro Simona è stata in visita da Papa Francesco proprio qualche giorno fa. La mostra, che rimarrà allestita alla Rocca fino a sabato 18 luglio, si sposterà a Gubbio a fine agosto. Alcuni di questi personaggi saranno qua sabato prossimo? Sì, sabato prossimo ci sarà un incontro qui alla Rocca, tenuto dalla dottoressa psicoterapeuta Alessandra Battistelli, in cui si andrà proprio a parlare, ad approfondire il tema della malattia come sfida con se stessi e come recupero della nostra innata resilienza, quindi la capacità di reagire a stimoli in apparenza negativi, quindi è aperta a tutti perché è un argomento veramente vasto. Sarà arricchito dalla presenza appunto di alcune delle persone che ho fotografato che quindi lasceranno la propria testimonianza diretta. Nonostante le difficoltà comunque possiamo trovare qualcosa di positivo, questo per qualsiasi cosa ci possa capitare. Ecco. Grazie. Grazie.